Faccio il treno? Allora faccio il treno, facciamo arrivare il treno, facciamo finito che qui all'improvviso dopo il palcoscenico si trasformi nella stazione ferroviaria e arrivo al primo binario treno diretto per Roma. E' arrivato il treno. Saliamo sul treno, cercando un posto, il treno riparte. Non so se ci avete mai fatto caso, quando il treno entra nel tunnel il treno cambia rumore, fa un altro rumore che fa più o meno così. Il controllore, bietti, bietti, bietti. Scusa, sbagliate. Non si trova mai un posto su questo treno? E' ferito il vagone, deve andare all'altro vagone. Signore, libra a sto posto, la vecchietta? Sì, io posso sedere qua? Sì. Fa un guarda, signore, posso aprire il finestrino? No, sta cazzo da vecchia. Signore, fa guarda, posso aprire il finestrino? No. Signore, posso aprire? No, ma vaffa. No, ma vaffa. Grazie a tutti